Andare a tartufi è stare a stretto contatto con la natura, viverla intensamente la natura, assaporare l'odore del bosco, le qualità delle specie di piante che danno il tartufo e vedere il cane, il cane che è libero, che cerca il tartufo. Il rapporto con il cane è un rapporto di simbiosi tra il proprietario, quindi il padrone e il cane. Il cane sta bene, cerca il tartufo per un pezzettino di pane, per la ricompensa. Passeggiare con il cane nei boschi, nei prati, chiaramente è un'ottima terapia anti-stress. Poi io non lo faccio per lucro, lo faccio solo proprio per passione. Passione è stare a contatto con la natura. Poi se si trova nel tartufo ben venga.